Per proteggere la costa nella zona di Villa Ardente a Pineto sono iniziati i lavori per costruire una scogliera sommersa nel tratto di mare a nord della foce del Calvano in corrispondenza della Pineta Catucci. Si tratta del primo lotto di un progetto in tre fasi che prevede di posare dei grandi massi a due metri di profondità per una lunghezza di 880 metri partendo dal pennello gesistente. Ricordiamo che l'ultima mariggiata aveva causato danni alla caratteristica Pineta Catucci con le onde che avevano invaso gli accessi alla spiaggia portando ghiaie e detriti sulle scale. Inoltre una parte della recinzione vicino alla pista ciclabile era crollata. I lidi si erano salvati grazie ai blocchi di cemento posizionati davanti al mare. Il motopontone La Cavaliere Sergio M ha iniziato proprio, vediamo qui lo specchio a cui è stato delimitato, si vede lì una boà gialla che proprio delimita il cantiere quindi dove il motopontone ha iniziato a posizionare i primi massi per le soffolte che è il primo intervento che viene fatto dopo 20 anni per porre in sicurezza questo tratto di costa di Pineto Nord che è fondamentale diciamolo per tutta Pineto perché l'integrità del territorio è un concetto fondamentale, deve essere tutelato tutto. Inoltre si provvederà a riempire la spiaggia con 32 mila metri cubi di sabbia, il primo lotto finanziato con 950 mila euro di fondi PNRR allo scopo di contrastare l'erosione della costa pinetese. Successivamente si realizzeranno gli altri due lotti finanziati dalla regione. Grande soddisfazione è stata espressa dalle associazioni che si sono battute per veder realizzato questo tipo di progetto. Questo è stato un bellissimo esempio di partecipazione dal basso da istanze presentate da cittadini, qui ci sono tre comitati, l'associazione Adico, il comitato Villardente e il comitato di Eliguria che insieme abbiamo presentato le nostre istanze e qui dobbiamo ringraziare molto per la disponibilità all'inizio solo all'ascolto di Umberto D'Annontis che poi ha fatto di questo fatto diventare fatti, ha fatto diventare tutta questa realtà perché non ha fatto solo promesse ma l'ha dimostrato con atti perché per fare questi interventi ci sono volute dei libere di giunta e per questa zona sono previsti circa 8 milioni di euro, alla regione Abruzzo che è anche il presidente Marsiglio che ha fatto del suo, ascoltando veramente dei cittadini.